Era evidentemente convinto che bastasse sostituire quei capolavori con delle semplicissime chitarre popolari, ma a lui, alla sua vittima, un tenore, quel piccolo dettaglio non poteva chiaramente proprio sfuggire. Un uomo di 57 anni, un cittadino italiano senza precedenti, è stato denunciato per il reato di furto in abitazione dopo aver rubato 11 chitarre di pregio a un musicista, a cui lui stesso aveva affittato un garage in piazza Giulio Cesare, proprio sotto i nuovi grattacieli di City Life. A identificare il ladro sono stati i poliziotti del commissariato Sempione che lo scorso 8 agosto avevano raccolto la denuncia del tenore. Il cantante aveva raccontato che poche ore prima era passato nel box e si era accorto che le sue chitarre erano state sostituite con altre tarocche di scarso valore. La vittima ha così messo a verbale che erano sparite delle chitarre per un valore di 150.000 euro. Agli agenti è bastato pochissimo per accertare che il proprietario del garage, per ben due notti, era entrato nel locale e aveva fatto sparire gli strumenti, lasciando in cambio le chitarre che aveva comprato pochi giorni prima in un negozio milanese. Identificato e denunciato il ladro, anche lui collezionista, i poliziotti si sono poi messi sulle tracce delle chitarre rubate, passando al setaccio la casa del 57enne e un'altra ventina di obiettivi. Gli agenti sono riusciti nell'impresa di recuperare 10 chitarre, una era già stata venduta online, che sono state subito restituite al tenore. Gli agenti sono riusciti nell'impresa di ricetta di ricetta di ricetta di ricetta di ricetta di ricetta.